La fiction, la serialità televisiva, in generale le opere di grande diffusione possono dare un contributo nel senso divulgativo. Quindi nel senso anche opere che spesso vengono molto criticate perché magari la storia viene banalizzata possono invece avere una funzione fondamentale di diffusione, introduzione nella sfera pubblica di alcuni argomenti che magari normalmente non lo sono. Quando si parla invece di comprensione nel senso epistemologico del termine, quindi di capire che cosa è stata la storia, che cosa è successo in un determinato periodo storico, io credo che il contributo che può dare è quello che può dare qualsiasi forma narrativa. Quindi introdurre un tipo di riflessione diverso, che non è quello della storiografia, ma è qualcosa di più che magari parla più all'individuo a livello personale e che come tutte le forme narrative può ritarci a capire la storia o un evento storico magari meglio, proprio perché viene messo in forma di racconto. Io se dovessi consigliare una serie tv in assoluto consiglierei molto probabilmente The Sopranos, uno perché è una delle serie che ho amato di più, due perché è quella che ha più o meno dato, molti mi contesterebbero, ma secondo me comunque è quella che ha dato avvio alla nuova serialità televisiva, che ha portato la serialità televisiva a un livello di espressivo diverso. Io parlo di questa serie che si chiama Deadwood, che è una serie che fa parte della prima ondata HBO, insieme a The Sopranos, ad Wire, Six Feet Under, c'è anche Deadwood, che è una serie storica perché è ambientata nel 1876 nel West, è ambientata in territorio di frontiera. Parlerò quindi di come questa serie deve essere compresa e scrivendola all'interno di alcuni universi testuali, che sono quindi la serialità HBO, il genere western e la storiografia su Deadwood, che è una città realmente esistita di frontiera, che è una città che esiste tuttora nel South Dakota, negli Stati Uniti, e di come la manipolazione del genere western e delle fonti storiche in Deadwood sia un'operazione che permette all'autore David Milch di discutere in che modo è stata formata la nazione americana e quindi ad andare a mettere le mani nella mitografia americana. e quindi ad andare a mettere le mani nella mitografia americana.